auto storiche musica e spettacolo è andato in scena in piazza duomo a cremona il flash mob delle auto d'epoca promosso dal cavec un tuffo nel passato nella giornata nazionale del veicolo d'epoca un appuntamento come aveva spiegato il presidente del cavec claudio pugnoli unico nel suo genere e mai organizzato prima in italia i 15 mezzi arrivati in piazza tutti i modelli antecedenti al 40 hanno trasportato i musicisti di un'importante formazione orchestrale di livello nazionale la quale si è esibita sotto la maestosità di duomo e torrazzo il concerto è stato un omaggio ad una città duramente colpita dal covid grazie a tutti